Sesto alla Reghena è una piccola gemma preziosamente custodita ai bordi occidentali della campagna friulana. Una terra dalle pianure rigogliose, fertili, imbevute d'acqua. Una terra ricca di storia e di testimonianze. Una terra dalla storia bimillenaria, nella quale si sono insediati celti e romani, longobardi e veneti, tedeschi e slavi. Si presume che Sesto fosse già abitata in epoca pre-romana. La sua romanità trova una conferma nei numerosi ritrovamenti archeologici fatti nel centro storico e nelle campagne circostanti. In epoca romana il luogo divenne presumibilmente un astazio di rifornimento posta alla sesta pietra miliare sulla strada consolare Giulia, che attraversando il passo di Monte Croce, collegava la vicina concordia sagittaria al norico. L'abbazia benedettina è il cuore del borgo, silenziosa e mistica aspettatrice della nostra storia. Per certo, il luogo dovette vivere le esperienze esaltanti e altre volte tragiche, che scandirono la storia dell'intero Friuli e che gravitarono attorno alla cosmopolita città di Aquileia. Non è dato sapere quale fosse l'iniziale struttura architettonica dell'abbazia, la cui fondazione coincide con la nascita di altri grandi complessi monastici in Italia e in Europa. Sesto al Reghena conobbe un primo sviluppo urbano ed artistico durante la dominazione Longobarda, quando nella prima metà dell'VIII secolo venne fondata l'abbazia di Santa Maria. Certo, almeno nei primi secoli, questa che fu la maggior fondazione monastica di età Longobarda in Friuli godette di una invidiabile situazione patrimoniale e di potere. Nell'899 subì la devastante invasione degli Ungheri che la distrusse quasi completamente, ma tra il 960 e il 965 l'abate Adalberto II iniziò l'opera di ricostruzione e l'abbazia crebbe la sua potenza non solo sul piano religioso ma anche civile, tanto da assumere l'aspetto di un castello medievale con il suo sistema difensivo formato da sette torri e fossati. Con il diploma del 967 Ottone I donò al patriarcato di Aquileia l'abbazia di Sesto che più tardi, alle soglie dell'età moderna, nel 1420, subì il passaggio alla dominazione della Repubblica Veneta. Dopo varie vicende, la giurisdizione religiosa passò nel 1818 alla diocesi di Concordia e nel 1921, infine, la Santa Sede le riconobbe di nuovo il titolo di abbazia. L'attuale denominazione di Sesto alla Reghena è relativamente recente, risale al secolo scorso quando il Friuli venne annesso all'Italia nel 1867. L'abbazia benedettina di Sesto alla Reghena ci offre una sensazione intensa e suggestiva. Si avverte il perfetto equilibrio fra passato e presente. Il suo silenzio racchiude una profonda spiritualità. Le sue pietre testimoniano un intero ciclo di storia. Numerosi sono i capolavori artistici custoditi a suo interno. Pittori di chiara fama si sono succeduti nell'arco di quattro secoli dal 1200 al 1500 lasciando ai posteri opere di indubbia bellezza. Qui hanno espresso la propria arte discepoli di Giotto, Andrea e Antonio da Firenze il Bellunello, Pomponio Amalteo e molti altri. Sotto il presbiterio, la cripta, di epoca longobarda e gotica. La suggestiva penombra richiama la silenziosa meditazione e lo spirito contemplativo dei monaci. L'urna di Santa Anastasia, in marmo di Aurisina, databile al VII secolo, rivela il timbro dell'arte longobarda nella sua fase più fiorente. Al suo interno sono custodite le reliquie di Santa Anastasia patrona romana martirizzata nel 304 probabilmente ad Aquileia. La serena bellezza del centro storico ha finito nel tempo per diffondersi anche d'intorno permeando il borgo, i campi e l'intero territorio. Attualmente il comune conta 5300 abitanti tra le sue frazioni Marignana, Bagnarola, Tramuscello. alle concительно troppo es elevati alle caratteristiche. Ho! Venchiaredo è uno dei più noti luoghi letterari del Friuli, celebrata da Ippolito Nievo nelle sue confessioni di un italiano e riscoperta da Pierpaolo Pasolini. La bellezza e la suggestione di questo luogo, ricomposto paesagisticamente con le specie arbore autoctone e la flora tipica degli ambienti di Risorgiva, lo hanno reso il luogo di incontro di molti innamorati di un tempo e di oggi. La chiesetta di San Pietro è un piccolo gioiello artistico immerso tra il verde e la tranquillità della campagna. Questa chiesetta campestre di origine medievale è probabilmente databile intorno all'undicesimo e tredicesimo secolo. L'attuale aspetto dell'edificio è dovuto all'opera di recupero e restauro promosso dal compianto Giovanni Sigalotti e da un gruppo di volontari, terminato nel 1997, e che ha ridato splendore a questo antico e caratteristico luogo di culto. A poca distanza è possibile visitare l'antico mulino di Stalis, anch'esso restaurato e meta di molti turisti. Nella frazione di Ramuscello si trova l'antico borgo di Ramuscello Vecchio, all'interno del quale possiamo ammirare Villa Freschi, un bellissimo esempio di Villa Settecentesca. Tra la seconda metà del XVII ed il XVIII secolo, gli Attimis fecero costruire questa villa, seguendo gli schemi classici delle ville venete, incorporando nella stessa alcuni degli antichi edifici. La chiesa, dedicata alla Madonna della Salute, fu unita alla villa in un periodo successivo e divenne più recentemente cappella privata, dopo essere stata chiesa parrocchiale del villaggio dal 1789 al 1935. Sul retro della villa si estende uno stupendo parco con un lago circondato da cipressi di palude importati dalla Florida, magnoli e querce. Sesto La Regna La cittadina ricca di storia e tradizioni La La cittadina ricca di storia e tradizioni Ocino La cittadina ricca di storia e tradizioni faflexi di portiere